Atmosfere, atmosfere da libro cuore, personaggi di De Amici, se evocate da un museo della scuola, la maestrina della penna rossa, la classe di Franti, insomma, questo museo a rango. In due stanze si ricordano i tempi che furono, ovvero, gli anni di studio che vanno dal 1920 al 1960. Per saperne di più, ecco il servizio di Luca Bindi. Dall'alto la veduta, poca davvero di rango, paese nascosto dalla nebbia, ma tre più belli del Trentino e con un museo particolare. Siamo con Tommaso Iori per qualcosa di fantastico, una scuola che porta una data importante, 1930 o forse esagera? No, forse anche qualche anno prima, intorno a quel periodo là, qui ogni frazioncina dei paesi aveva una piccola scuola, cioè scuole di campagna più che altro, e questa si è salvata, perché si è salvata? Si è salvata perché non l'hanno toccata. È diventato un museo della scuola come abbiamo visto all'entrata, per merito suo, ha iniziato 10 anni fa? Abbiamo fatto una prima esposizione con ricordi di scuola, del piccolo materiale didattico salvato, delle vecchie fotografie e altre cose didattiche così. La cosa è piaciuta moltissimo, alcuni signori hanno visto, si sono commosse, altre piangevano addirittura, e mi hanno consegnato gran parte, alcuni di questi, di loro ricordi, perché hanno detto «Oh, io sono sicuro che se non le buttano via e quindi preferisco consegnarla a lei perché le salvi». E poi ci sono delle chicche, delle foto anni 1930-1940 con sui nomi, complimenti. Abbiamo delle foto addirittura del 26 e del 28 con su praticamente tutti quelli che erano gli abitanti di una frazione. Tra l'altro dei banchi, anni? Dagli 20-21 fino ad arrivare agli anni 40-45. Che cosa la emoziona di più di questo museo? Mi emoziona continuamente l'incontro delle persone che vengono e queste persone rimangono commosse nel ritrovare la loro esistenza, la loro che poi è ancora la nostra esistenza. Come per esempio una signora di 94 anni, la signora Garbari, che è venuta qui e ha trovato, lei non lo sapeva, io ho qua un suo quaderno di scuola da Vezzano, e lei è venuta e se l'ha ritrovato qui ed è stato un giorno molto felice. Grazie. Grazie.